3 shield of justice che non mi piacciono lì cos'è sta musichetta? me lo sto facendo anch'io me l'ho posto su un suo faccio a live musichetta camara c'è un Asp Dangerous fede la legend facciamo questo intanto che aspettiamo qualcuno fammi solo condividere la cagata su facebook qualcuno mi ha taggato su un post oh mio dio perché so già che c'è uno scout prima giocatore ero io forse? no almeno che sei droppata adesso vicino al sole nope green joker ci sono ci sono maaa i server stanno bene perché? io rì s7 scrivere hello così è già troppo complicato e che palle c'è un fede la legend che rompe il K i server si stanno bene perché? perché c'era la bulletin board che ci ha messo 16 anni ma quello ogni tanto lo fa comunque ok allora adesso devo andare al goldstein port per posare ancora una missione e poi sono da voi eh s7 gritting for serious commander ok lo dicono loro i fede va bene andiamo intradirlo non dire cazzate non dire cazzate obs perché perdi frame a caso ma ci chiede quello perché vuole anche rompere il culo lui o? boh salva lui sul suo mitico scout da due clippa vipa giocatore da qualche parte o vipa giocatore potrebbe essere il nostro mitico di frame zorva clan no sta anche saltando questo qua sale da un paccazzo s7 alas vipa giocatore vood più o meno Sì, ma per un piscio, quindi non so neanche se ne vale la pena Ah, c'è anche la task force Siamo grossi, eh? No problem, devi solo andare a trovare Andare solo su un dispeak, suca suca C'è un Isling Guardian che sta puntando a uno di noi, eh? Welcome to you! Tu benvenuto, nel dubbio Nel dubbio S7 S7 lo sanno, verrà, che è uno che Ma ci vuole nabbi Bisogna, sei già uscita? Uscita? Devo, sto ancora entrando su Goldsteinport Oh, ma... Oh... Perché hai 20 all'ora? No, nei nomi dei nonni Ma no, ero ancora in Super Cruise Hashtag la vecchia Sì, per서c Grazie a tutti. Non c'è uno scout? Vabbè, poco cambia. Vagare. In due la apriamo. Io vado addosso a sto Shield of Justice, così a caso. Sono in Eagle Dangerous, quindi... Ne vengo anch'io, sembrano. E tanto mi sta uberseminando, quindi prima che... Ok. Fuck the shit. Sto arrivando un T6. Black Coffee. Vieni un gruio. C'è una Vulture che ha 65 milioni di taglia. E' anche abbastanza vicina. E direi che mi sta anche puntando un pochettino. Vabbè, io vado leggermente avanti, tu... Devo interdire me e vieni pure. Nope. For major problems. Ok. E adesso... Entro nel Galactic Power. Mi sa che sono in due. Sono in due, Stavulture. Lee Young Rui. No, mi ha superato, mi ha superato Stavulture. Ma dai. L'ho preso dietro, ma mi sta dando tanta di quella pappa. L'ho presa io. Ce l'hai con sto Alas, eh? In che set? Alas è un saluto che conosco. Ma S7 no. Ok, preso. Eh, sto ad arrivare. Hai fatto uno scappino avanti. Paura. Ah, un Courier e una Vulture, eh? Ok, ci sono. Che facciamo prima? Io sto già scannando la Vulture. Ah, la scanni anche. E già che c'ho il coso. Scusa. Ah, la scanni anche. e troppo asti studio e si potrebbe essere un cazzo d'idea ok dove mi chiede mangia mangia oh ma andiamo shield of justice c'è sono entrata in super cruise e mi ha immediatamente immediatamente una andata sta spondendo ok oh scanno anche l'altro già che ci sono già che c'ho lo scanner vieni qua fletcher hai fletcher? si ah shallet fletcher mi hai fatto una rasetta è tutto calcolato si 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 non ti preoccupare non so quello che faccio mhm cioè non gli ho neanche toccato la power plant perché non sono riuscita si 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 troppo dove sono troppo dove sono completamente a caso si io ho messo il wing un lucchino c'è io sto arrivando sono ancora leggermente lontana ma arrivo ok ok eccomi adesso si non ti vedo vi riuscite a scrivere? dobbiamo doppare tutti assieme secondo me no secondo me adesso se togliamo la wing e la rifacciamo funziona l'altra volta eh ma l'altra volta aveva fatto quello l'altra volta l'hanno fatto così erano droppati eravamo usciti tutti attra assieme e ci vedevamo ma dici? era solo la wing era puttana ah va bene allora io salto aspetta 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 fermati ti vedo ti vedo ti vedo ti vedo ti vedo ti vedo ok ti vedo anche io adesso dobbiamo solo sfasciare la wing sfasciate la wing ok ditemi quanto eh fatela voi va così è meglio si lo faccio io ok facciamo vedere malnimara qualcuno eh si aspetta che ehm anche lei vuole eh anch'io ma devo girare con due mosconi proprio santo dio si si problems? cioè siete brutti siete esteticamente orribili aspetta arrivati? si e adesso ho passato yeee supercruisa che c'è? uno scout e un explorer giocatori che c'è? cosa? si sente tutto eh rischiace no ma davvero eh pandemonium pandemonium ha sbagliato la U probabilmente ma ci sono un sacco di cmdr ho la mia impressione è la casa base è quella ma tra parentesi prima mi ha interdetto un enemy ma è un perché ci sono due enemy il posto fede la lagia che sto puntando io anche luchino ah si anche questo cmdr fine su rosp io non ti vedo di nuovo nei contatti oh ma sembra fare merda siete voi due ma io ti vedo ma io ti vedo anche nei contatti che forte c'è scotti cosa vuol dire nei contatti anche nei contatti mi vedi? ehm no no in effetti nei contatti non ti vedo però ti vedo nella wing eh vabbè non stiamo così so per interdire il cobra il federal agent dici i raidis che è dangera così mi da punti però peccato che la sua barra non scende mi sto droppando vieni qua lisa stai arrivando o? si arrivo arrivo sei sempre lenta eh eh oh scusate non posso più sparargli stai armandover hitting whoops ti stai brucendo non ho messo peep nei aspetta che la colpisca Isa eh io vedo solo Reaper qua non vedo nessun altro avvicinate a lui scusate è abbastanza vicino a due chilometri e mezzo da te? da me si eh ma dal cosa? eh sono praticamente appiccicato al cobra eh ho detto io che la winga è rotta non vedi nulla vicino a me Isa? beh adesso muore però non vedo niente in quella direzione ok adesso non c'è più niente eh meno male per questi 115 crediti allo brava cosa ha droppato qualcosa? cosa ha droppato? si due limpet niente uber ciccia eh oh mentre la roba che ha droppato la vedo Secondo me non era abbastanza vicino Ma se ero appiccicato a te Non è vero invece Ma cosa non è vero? Non è caldo Isa? Eh? Accendi perché sto morendo Ah ripà Troppa Troppa di nuovo? Troppa di nuovo un attimo Perché Isa Aspetta un attimo Eh no Merda Ok aveva droppato qualcuno Isa Aveva alloccato qualcuno Isa non c'è Si che c'è Eh tu la vedi Mi avvicino a te ma Aspetta che mi avvicino Isa così almeno Isa è qua Aspetta che gli passa attraverso Se volevi passare all'attraverso l'hai mancata di brutto Però in compenso a momenti prendevi me in pieno Eeeh certo Anche lì era tutto calcolato Aspetta Isa stai ferma Stai ferma Guarda che io ti vedo nella wing Non ti vedo nei contatti Tocca un po' Tocca un po' E vedo che ti si rompe lo scudo Aspetta aspetta Ma al suo non lo vedo Vabbè Tu posso andare vicino prima che Eh Tai ferma Ok Ok No no Dritto vai avanti pochettino No Isa ferma Ferma C'è una viper che spunta dalla schiena di Isa Vai ancora un pochettino avanti Sì Sì Voglio andare a vedere se c'è qualche missione adesso Ok Golden No sbagliato Goldenstein port Che è dietro Perfettamente dietro ovviamente No 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 Tolto in tempo Sto saltando anch'io intanto Tu il navlock ce l'avevi su ripa Tocca un po' Palle E' Isa Di coperire Ma c'è qualcuno C'è un giocatore con Con le bracche fuori Un cobra Enthusiast Clean Legion Ring Però ci sono altre due cobra Fa un po' guardare Predator Hunter Armless No faction Dove esserci un altro giocatore qua Silenus Leon Gruy Niente C'è anche un T6, fa un po' vedere Eh, sta già saltando Prima che mi gira è già saltato Calma, Covershot Cosa fate con il mio amico? E' più che altro il mio amico, cosa fai? Quale sarebbe il tuo amico? Il cobra col pisello fuori Non voglio sapere perché è il tuo amico allora Andiamo pure a droppare, tanto Stanno gazzeggiando Guarda come ha cambiato il discorso Si comincia a sentire un Fuscio Eh, non ci sono funzionato Che va accaddo Che è quel missile che è passato? Non ho idea, penso a un bot Bot Ma sì, è stato un missile Eh, che palle, una patria o sentine Ma f*** Eh, no, no, no Vieni qua che ti trito Non ci sono Non ci sono, non ci sono Non ci sono, non ci sono E' un'acqua Ma甚麼 Che si dice Mmm Dove pensi di scappare, cobra c'è un attimo che arrivo non vale tanto ma stateva ghichichando leggermente? Skype che sta facendo merda mi sto caricando e ho inviato tanto ci sono tre civili apicum ma i civili non so neanche come cercarli, non mi interessa ma cosa facciamo? Andiamo a combattere per il... per il potere per il cinese o... eh esatto io ho preso una missione che c'è da 100.000 l'unica assassination che c'è Lembava Most Wanted Man esatto ok sono anche un coglione, ho chiesto il docking poi non ho chiesto il docking, l'ho richiesto, l'ho annullato, ovviamente genius ma comunque l'avete passata leggera, guarda che alla fine... guardate di nuovo pack pingando malissimo probabilmente si sente la voce metallica infatti ho accettato la missione dei standby da... si, venghiamo a mille eh ma io sto... eh sì... sto andando a 30k, eh? quant'è che c'è da? 20.. 22 eh ذه quanti invi? 54 50 45 40 35 34 34 30 20, 25, 21, evviva! Lasciamolo lì È troppo pesante, è detto Ok, contact Perché ho dei 3 Comunque si caghiamo Ah, è vero, perché io sei venduto i 4 di palladio, no? 1.600 di trade dividend E sei fortunato, eh? Chi è che sta per esplodere? Non sapevo che funzionasse anche lontano C'è un bot che è penetrato nella stazione Ed è esploso nel muro Bene, bello Non ci sono altre missioni interessanti Infatti io mi sono già stoccato e sto saltando Saltando Almeno sto uscendo per saltare Non so neanche dove Dov'era questa? A sganano A sganano Ok Ok Andremo a sganare Non provvenga ancora spottavate Un clip Un clip Un clip Un clip Ok Questa volta la muoio Che mai? Madonna che burluida E ho provato A fare una cagata per un... No, ho provato a correggere la rotta con una bustata Si Mi dico solo che... Ho fatto tutta la paratia con la saccia Non so niente Er... Ehm... Welcome to Jackass E' uguale no? come si chiama questo rob barker? ok rob 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 provato conda mostly amless wanted mission target però mi sa che tra poco droppa quindi sveglietevi eh c'è un tunnel infatti ci sto andando ci sto andando un tunnel completamente nero ah no ok adesso si è ripigliato ok sono uscito mi avvicino a te io la sto già prendendo eh e minchia non molla io ho già un navlock e sto venendo verso di te si tanto io ho già un navlock su di te ripa quindi vai pure con due linee te alpiscio gli scudi si vai pure la sto prendendo droppa a momenti pallo pallo ripa quanto vale scusa? isa non la vede minchia vale un macello la scanno questa tanto isa non la vedrà non è vero aia e invece e invece io però non vedo te e invece io però non vedo te ok io l'ho scannata e ha preso 60.000 di taglia così eh quindi direi che ho meritato la pena scannarla che se ce l'ha con me ho porca eva ok io gli ho se gli hai dato continua a dargli eh si ma non divento rossa wow che rasetta oh oh porca miseria aia troppo vicina troppo vicina due railgun in panza che cazzo di movimenti fa? si però non è bello eh che non diventa rossa non mi piace questa cosa qui perché sai la wing fottuta infatti a me scatta come una bestia però scatta proprio tutto il gioco a me no ma eh mi sembra quasi alla deriva non vorrei dire cavolate no mission updated a voi lisa mission ma come mission lisa sta facendo da sopra mi sento ancora sparare io eh certo per me è lì al 100% tranquilla e beata non va giù perchè la wing rotta adesso sta sparando a qualcuno che non sono io eh almeno da fuck eh vedi se riesci a ucciderla is very windy no non posso ucciderla non va giù niente aspetta non ti vado a vedere ma guarda ma guarda è la wing riusciranno i nostri mitici lucchino e lisa di uscire a giocare a elite senza dare problemi no mi sa di no vabbè sentite ragazzi eh eh infatti però devo uscire dal cosa devo tornare in eh non ti sento Luca spasciamo la wing e li facciamola se no che cazzo stava a giocare così ok voi fate intanto all'outpost più vicino tra virgolette più vicino visto che ha mille rotti ok eh ha dato parecchia taglia eh 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 ah già è vero devo andare anch'io a prenderla si vado anch'io all'outpost viene all'outpost Isa si come si chiama? Sturcrow Slatform Sturcrow scusa non ce l'aveva così mentre andiamo facciamo due prove io riso della wing ma perchè non andiamo alla Coriolis che c'è qua vicino scusa? c'è una Coriolis vicino Usairing potrebbe essere un po' meglio si no una non è una Coriolis è una ma non è più vicina una filotta larga si un minchia più vicissimo ah si si è un pochettino più vicina avete ragione il fatto è che mi aveva lasciato il cursore in basso e c'è un una conda giocatore ok sto saltando allora Isa dove sei? Isa non posso scriverti tu? mi sa neanche io ma non avevate aperte le porte scusate si ti ho invitato la wing anche a me o? non lo so l'aiuto ah boh trasmission not sent unable to connect to CMDR semi Linux capiscio secondo me colpa del mac di ruchino ma adesso lo stai giocando da mac o da bootcamp? da pc da windows ma l'ho sempre giocato da anni ho fatto solo una prova non era solo per sapere può essere che magari però può guardare quel file là dove ci sono le porte magari c'è delle porte specifiche non lo so ma sto perdendo ci sono gli ho messo delle porte specifiche adesso magari non ha solo scritto qualcosa ci sono stati degli aggiornamenti da quando no non credo non mi pare troppo guardo diciannoro che è là in fondo ma troppo guardo un cazzo prima il parcheggio fa così va? sono rubato appicciato alla stazione allora vuoi che non aspetto ai dali? c'ho una taglia ma sono un aspetto ai dali comunque figo uuuu si arrivo veloce uuuu come c'hai una taglia? non c'è mai una taglia qua sei anche wanted qua? no a pezzo di si dove siamo qua? a sganano a sganano 4.9 eeeh eh ti ammazzaranno mica per quello figurati non l'hanno mai fatto nonno io sono un giocatore che probabilmente è ripa allora che palle che palle che palle sta cazzo di cosa di merda ci sono neanche delle visioni qua ci sono io ho tre porto i pacchetti di patatine di caramelle di popcorn la alla stazione da qualche parte ma nessuna perlembava goldenstein port allora dove c'è il file non ne ho la palida idea sei tu che l'avevi trovata eeeh steam data trovate 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 no non era sotto steam data non era sotto app data frontier no no era sotto steam data frontier elite eccetera 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 è dentro steam steam maps common elite quello eeeh proviamo proviamo non lo so io vado solo a bere un po' di acqua fresca arrivo eh ok non lo so ok Grazie a tutti. 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 Ok, adesso sono anche forwardato le porte. Viche parei. Provo anche a uscire dall'elite. 4, 3, 2, 1, engage. Ok. Ok. No, se lo stavi per facendo. Stavando per facendo, no? Eh, giusto, è vero. Hai ragione. Porca mi sembra che si cola però. E domani è un nuovo picco. Immaginate dove sono domani? A Torino. Evviva! E immagino dove sono io? A Torino. È vero che anche tu sei a Torino domani, me l'hai detto. Mi so, non è che per caso hai aperto la pagina di Twitch, vero? No. Che buffera come una bestia. No. Ok. Ho aperto il blog ma non sulla pagina di Twitch. Va bene. Beh, la chiudo. Dei Seid. Sì, comunque il plugin sul sito fa un po' cacare, dice ancora offline. Sì, vero. Eh, lo toglieremo. Se non sei in grado di metterlo e di usarlo. Eh, farlo porre tu. Quanta roba devo fare? Sto facendo tutto io. Sì, quello che inferie. Ah, mal di testa. Per favore, droppi. Eh, ok. Eh, no, no, no. Adesso anche le porto a fare, guardate, tutto sarà un po' ancora cazzo. Ci sono due assassini con quale ripara. Non c'erano. Non c'erano. Quando sono andato io c'erano solo tre pacchetti di patatini da portare e cos'era altro. Dorsal qui, Trank. Va bene. La Fook? Uno si chiama Dorsal qui, Trank. Guarda che faccio un'altra. E l'altra si chiama Publius Clodius. Ok. Però siccome la Ripa Nabbo non le prende, le prendiamo anche noi, perché se no... Se le volete fare voi. Beh, e se Ripa Nabbo viene a prenderle anche lui? Adesso non scrivo. Ripa se. Santo Dio. A parte il fatto che io devo ancora uccidere sto simpaticone, eh, comunque, in ogni caso. Giusto, è vero. Eh, ma tanto fino a quando ho riuscito a fare una winger che funzioni, tra di voi almeno. Ma l'altra sera ha funzionato così bene. Poi sono esplositi i server, infatti. Tu dici che è stato quello? L'assassination alla fine tu, Luca, l'hai presa? Quella da Sgananu Bridge Solutions. Quattro ne ho solo una. Sì. Dorsal qui trunk. Che esploso qua. Io ne ho tre. C'è la Rick Hearst. Publius Clodius. Merda, ho chiuso la pagina. E qua non c'è un caldo. Dorsal qui trunk. Ok, allora, quella la prendo anch'io. E le altre sono onestimibili per me. Sono troppo snabba. Troppo snabba. Siete da Sgananu, giusto? Faccio un salto e riprendo anche quella. Perché qua non c'è un tubo. Ah, giusto, sei ring, sì. Io non so cosa cazzo faccio, che non è riso. Per Jamesoft, grazie per la warninazione di un'intrusione federale. Ovviamente qua succederà merda. Perché? Quanto pare c'è un'intrusione federale. Aspetta, aspetta. Guarda che quanti f***. Sì, è una minaccia. Sì, ma le nostre orecchie non... Beh, non ho detto una minaccia a chi? Ah, scusa, scusa. Scusa, scusa, scusa. Come ho fatto a... Eh, insomma. Allora, ho Siren. Che è qua. Vediamo se sono veramente così ridicoli. Che hai messo? Aspetta, te lo dico dopo. Cos'è effetto? Oh, porc. Ok. Rischiavo di sparire nel sole. Solo per bere un po' d'acqua. Scusa, disengaged. Checca? Eh, stanno facendo merda su Skype. Ed è caduta la linea. Ok. Che cazzo? Ma non l'ho detto richiamare. E vado lungo per colpa loro. Ok. Tutto per sottolinearlo, questo non è il problema del gioco. Il problema è che stanno giocando sulla stessa connessione. E a quanto pare non è una cosa gradita. Almeno non così come sarebbe fantastico avere. Il treno. Altro là. Ma chi è che esplode voglio vedere. Eh vabbè. Ciao Tia. Qualcosa che non ho fatto in tempo a leggere il nome. Ok, dove è il mio parcheggio? Là. Scusa, il mio parcheggio è successo. Questo gioco è successo. I timer vengono considerati... ...super. Scusa, che inborni. Scusa, che ti viene. Scusa, che c'è? Scusa, che c'è? Scusa, che c'è? Scusa, che c'è? vediamo anche questa vediamo anche un po' di carità perchè siamo bravi come ricompensa un sorso d'acqua fresca guardo solo se tornano online e questo non posso farla ok avete finito di fare merda ok ci sono perchè sei cascata pensavo se si facessimo qualcosa con router guarda sto T6 che esplode no mi ha buttato giù solo su Skype sei sicura? si proviamo così qua c'è Merlino su un T6 che esplode beh ve lo dico eh ha fatto qualche magic sullo router magic se è così sono una denuncia possiamo sapere qualche anteprima su quello che hai fatto? no è un segreto fino alla fine un mago non rivela mai i suoi segreti? bravo eh same linux e scam online sto cuocendo tra parentesi tra parentesi io per prima fino un attimo fa ti vedevo sei ancora parcheggiato? eh adesso sono all'USAIRING si ti ho visto passare ma adesso non ti vedo più nei contatti si sono ancora lì avvicine a te la stazione eh? avvicine a te la stazione e quello che sto facendo no ma io ho preso le tre kill mission se mi dai un attimo mi launcio ma noi ne abbiamo preso solo una e io le ho preso tutte pish anche perchè due erano da 23 arietis quindi si ma non valgono un pish ti sembra che me ne sbatta qualcosa? so soldi mmmm mmmmm deve essere se c'era qualcuno lo tranciamo ma grande come hai fatto alla fine? è un gioco di merda eh ma va? ma dimmi mi sembra che non è stato tramite il cellulare scusa? va bene scusa dallo stesso IP non puoi giocare in due evidentemente ah no adesso ti sei collegato dal telefono si lulz è l'unica cosa di merda che cambia da eh mi invitate in wing o almeno provate prima se effettivamente funziona beh io adesso non la vedo ancora io sto andando in supercruise io sto andando in supercruise mi invitati tutti e due hola Lucchino sei già entrato? si oh che palle adesso sei rotto tu non ti vedo in wing provate siete in supercruise io non vedo che questo per andarci lo 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 mi è arrivato e ti è arrivato anche quello no? ma se scrivi in wing chi lo vede? io ho scritto in wing qualcuno l'ha visto? ehi ehi io lo vedo date tempi di risposta isa io no che palle vabbè isa droppa te adesso non gli droppiamo su skype non so che nessuno ma adesso si adesso si adesso si ma mi è arrivato io io ti sento su il diretto che cazzo sta succedendo? sei mai in menu Lucchino? si ah lei mi ha da scannare isa isa prova a droppare a caso no io sto tornando ah ok aspetta tu vedi isa si ce l'ho davanti mi sta bruciando le rettine infatti sposto un attimo la visuale se no isa io non vedo ne uno noi sono in supercruise e mi si è spaccato edito non è vero si è ripresa no posso nemmeno scrivere isa eh aspetta sono in living wing adesso non posso scriverti neanche diretto brutta storia almeno che non mi abbia cambiato di rete sto piccio no sono sempre connesso via cellulare i gran lul che palla del cazzo no infatti non posso mandarlo non siete buoni a giocare vai a fottarti uffa io droppo in un segnale per lululo isa io tanto ti vendo ancora in wing anche se ti vedo comand now no no io l'ho appena lasciata la uffa l'avevi lasciata da prima già quando l'avevi detto si e io invece ti vedevo ancora lì comand now sospesa nel nulla bene fico l'apertura l'apertura fico dai faccio fuori sti Ma ho quasi trattato il cazzo sto gioco, porco dio Ho un ping neanche brutto, cioè potrei anche giocarci al cellulare Beh, ogni tanto... Ehi, chi è che mi interdice? You are my end now Va bene Ok, qua stanno sparando un po' in tanti e scappano in via Torno subito A V 3, 2, 1, engage Ah, Cristo di Dio Eh, che mi se ne avevate accettato quella che voleva un po' di più Fa tre pure io poi al massimo lo faccio da solo Qualcosa tipo bla bla Qui Drunk O qualcosa così Mmm Eh, amico non me la ricordo And down and destroy dorsal keep ranking baldur Quello, lui Ah, dalla tua descrizione non ci sarei mai arrivato, guarda Eh, va bene Ah, era uno solo a 23 arietis, erano due a baldur Vado a fare quello a 23 arietis, visto che voi non l'avete presa 23 arietis Frameship drive charging 4 3 2 1 Stare lì a fissarlo per 10 secondi, se non di più Allora, come si chiama sto tizio? Ublius Clodius Fantastici nomi generati a caso o dai giocatori Un po' di più 4 2 1 1 2 2 Come si chiama Meno rumore per favore mi hai trappanato le orecchie Ma scusa eh ma qui abbiamo sempre giocato insieme comunque quasi sempre io e te si no ma con Isa anche no no Isa ha giocato poco e niente in wing vabbè ma comunque funzionava Se sto qua si va di nuovo E' un tipo che sta parlando di cosa Isaguarbit o Firewall Dove cazzo sta Firewall Non devi morire Dove che lo ammazzo c'è c'è tutto windows final on and off Dove dire deve essere 5 Off off va fa'culo Si lo so che è off non mi rompa il cazzo Eccolo qua il mio obiettivo Andiamo a tirare giù le conde Panico hai tirato giù il Firewall attenzione Dovrebbe essere pericoloso Iso stai giocando Stai facendo qualcosa di Ho chiuso Elite per andare a vedere nel Firewall e adesso lo sto riprendi L'hai chiuso del tutto e l'hai ammazzata? Si Ok allora aspetta un attimo Mi metti di dhcp Vaffanculo Dio cane porco Se vuoi che mi metti di dhcp? Se vuoi che mi rimetti di dhcp? Funziona Dicono Ok mi sei Senza funzionante ancora No no funziona Ok Ehm Poi fammi andare sullo router Ah, che palla del cazzo Pirro, servo del cazzo Togliete anche la porta Togliete anche la porta fissa Ah, come vuoi, però Non credo che ti faccia male quello Non mi ricordo dove ho PNP Prova a buttarci l'acqua santa L'acqua santa Fa miracoli Dicevo Oh, che palla è sta conda Ho già veramente scassato il cazzo Estremiamo anche i problemi di rete Ebbè, è chiaro I vostri Fanno parte del gioco, no? Fanno parte del sucafuca Sì, che potrebbe anche evitarsi Tipo Finisce che ci obbligano a mettere Il disclaimer Fm18, esatto Fm18 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 Altre che radio 6d Niente, niente Meglio se non ripeto Basta che continua a non funzionare Poi facciamo la di Maria Allora, ripa 10 euro di iscrivono Toc Zucca zucca Vabbè, stai caricando Vediamogli ancora un secondo di tempo Zololò Oh, zucca zucca Niente che scherzo ando forte In via i messaggi Non è caso che ti sfondi Però io ti vedo in friends Sì Oh, alleluia Sta conda crepa anche Sono in cruiza Minchia, 369.000 comunque Di taglia, solo taglia Minchia E meno male che erano mostriandes I loro loro continuano ad arrivarmi Eh, lo so Beh, io e Lucchino Non riusciamo a parlarci Siete a due metri di distanza C'è scritto che Adesso la fargola è giù In caso si serve Più carne polco bastardo Che cazzo c'è UBS che non sta OBS, please Che cazzo sta succedendo No, no, meno male che la linea funziona Continuo a dirglielo Oh, ma la linea funziona benissimo Sti cazzo, meno male C'è di nuovo ambiente muesli Sì Sì Ci sa Proviamo un attimo Il mio imprevete Cominco Va bene Solo tu mi hai menù Vieni buona il mio Sì Ci sono Eh, ma è ancora in cruise Vieni buona il mio